Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città. È il primo incontro di una serie di appuntamenti per approfondire le attività e le iniziative del Comune di Napoli. Apriamo oggi con un'intervista alla Vice Sindaco Maria Filippone, che si occupa di scuola e famiglia, e all'Assessora Teresa Armato, che è la delega alle attività produttive. Parliamo di Notte Buona, un progetto che vede insieme Comune, Università Federico II e le parrocchie. Ma vediamo la scheda informativa. Uno spazio alternativo per i ragazzi e le ragazze che la sera frequentano i luoghi della movida cittadina. Si chiama Notte Buona, il progetto del Comune di Napoli, che offrirà gratuitamente ai giovani, ma anche agli adulti, un momento di ascolto con uno psicologo o con un sacerdote all'interno di alcuni spazi parrocchiali. Realizzato in collaborazione con la Cattedra di Psicologia Dinamica dell'Università Federico II e con l'Ufficio della Pastorale Giovanile, il servizio funzionerà il sabato sera dalle 20 alle 24 e prevede come prossimo appuntamento sabato 26 marzo nella Basilica di San Giovanni Maggiore, per proseguire il 2 aprile nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia e il 9 aprile nella Chiesa di San Gennaro in Via Bernini al Vomero. La Notte Buona, come nasce questo progetto? L'ordinanza sulla Movida non voleva essere soltanto un provvedimento riduttivo o, come qualcuno aveva detto, punitivo, ma poteva anche innescare delle buone pratiche. Noi avevamo già realizzato, su iniziativa del Sindaco, un accordo quadro con tutti gli Atenei cittadini. Quindi abbiamo utilizzato questo accordo per stipulare una convenzione con il Dipartimento di Psicologia Dinamica della Federico II, con la professoressa Zurlo, che è stata entusiasta quando le abbiamo, l'ha armato io, sottoposta a questa ipotesi, e cioè di permanere all'interno della Chiesa di San Giovanni Maggiore Vignatelli, in orario chiaramente tardo, e lei si è prestata insieme con un gruppo di sue giovani psicologhe, che collaborano insieme con lei, e niente, abbiamo fatto un primo evento circa un mese fa, il 26 di febbraio, che è andato benissimo. Io dirigo un laboratorio di Psicologia Dinamica alla Federico II di Napoli. Noi stiamo portando avanti un progetto europeo che si chiama Student Well, che è quindi sul benessere dei studenti universitari e dei giovani adulti. Ci ha fornito la possibilità di accettare l'invito di Don Salvatore Giuliano, di far incontrare, quindi questo luogo di ascolto da sempre, che è la Chiesa, farò diventare un luogo di avvicinamento ad un ascolto di tipo psicologico. Quindi io spero che trovino un'occasione di pensiero per se stessi e quindi di un raccoglimento costruttivo. Questo progetto si rivolge agli adolescenti, quindi saranno coinvolti anche i ragazzi delle scuole? Il progetto si rivolge prevalentemente ai minori, su quelli chiaramente più facile e più agevole, fare azione educativa in qualche maniera e anche di prevenzione. Nessuno di noi vuole dire non dovete bere. Noi diciamo non dovete abusare, che è un discorso ben diverso, una questione soprattutto di tutela della salute e diciamo anche di educazione al benessere. La Chiesa è un luogo di riflessione, di ascolto, ma all'interno del quale si può iniziare ad avvicinarsi ad un tipo di ascolto, naturalmente di tipo diverso e questo è nato già nell'idea stessa, nella proposta stessa di Don Salvatore Giuliano. Questa è una via possibile di avvicinamento a una possibilità di pensiero e di ascolto fornita a questi giovani. Si pensa quindi di coniugare il bisogno di socializzazione dei ragazzi, il lavoro delle attività commerciali e anche il rispetto dei residenti. Questo è quindi un progetto che va verso un divertimento consapevole, Assessore? Sì, diciamo che è la direzione verso la quale vogliamo muoverci. Noi con La Notte Buona vogliamo realizzare un programma di lungo tempo che parta da questo bellissimo progetto che stiamo facendo con il coinvolgimento di alcune parrocchie, dell'università e anche delle famiglie. E continuerà anche nei mesi estivi, per esempio, con l'attuazione del programma La Musica a Napoli, in cui pensiamo di organizzare, e ci stiamo muovendo, come le dicevo, verso questa direzione, cerchiamo di organizzare musica anche negli orari notturni, nei luoghi giusti, in cui i ragazzi possano avere un'alternativa allo stare comunque di notte sveglie insieme, ma non necessariamente con l'abuso dell'alcol o di altre sostanze dannose. Dai ragazzi che risposta si aspetta? Allora, io voglio premettere che sono assolutamente d'accordo sul fatto che i ragazzi devono avere la possibilità di stare insieme. Io ho due nipoti, adolescenti, quindi capisco l'importanza per i ragazzi di stare insieme, di vedersi, di condividere. E allora noi dobbiamo offrire loro le possibilità di condividere, come dire, una notte buona e non una notte che poi diventa dramma o violenza o alcunché. Perché avete pensato di accogliere nelle chiese? È un'iniziativa che si svolge nelle parrocchie perché le parrocchie hanno immediatamente aderito, ma se ci fossero iniziative proposte, che ci vengono proposte da comunità, da realtà laiche, associative, eccetera, diciamo per noi sono comunque iniziative da prendere in grande considerazione.